Batazzi Nicola, ferramenta dal 1888 Commercio all'ingrosso, al dettaglio e distribuzione di ferramenta, imballaggi, casalinghi, accessori per il giardinaggio e l'irrigazione, anche attrezzi per il bricolage, obistica e modellismo. Disponiamo degli utensili e attrezzi delle migliori marche, fornitura e servizio tagliolastre in plexiglass e policarbonato, zanzariere su misura, porte a soffietto, tende alla veneziana.